La volontà di un po' tutti i consiglieri comunali è stata quella di opporsi categoricamente al sito di stoccaggio rifiuto di Torre Annunziata. Queste volontà devono manifestarsi in atti concreti. Allo Stato mancano atti concreti. Ci faremo promotori come consiglieri di minoranza di un ordine del giorno da approvarsi ovviamente prima della data della conferenza che vincoli l'amministrazione comunale a esprimere un parere negativo. Sono molto preoccupato perché poi da tecnico so che le conferenze dei servizi si possono chiudere anche a maggioranza e dove anche un parere motivato da parte dell'amministrazione comunale potrebbe non bloccare il progetto. Credo che dovranno seguire altre azioni politiche e di mobilitazione sociale molto più pregne di significato. Un'altra nota a margine di queste mie considerazioni è capire se precedentemente l'amministrazione comunale o per meglio dire chi precedentemente rappresentava l'amministrazione comunale non fosse invece già a conoscenza del progetto stesso e magari non abbia messo già qualche firma sotto qualche documento ufficiale per sedute che si sono tedute magari in regione Campania. Su questo stiamo lavorando. Abbiamo chiesto di accedere a tutti gli atti che riguardano il progetto stesso per capire se precedentemente l'amministrazione attraverso qualche sua articolazione non abbia già espresso qualche parere positivo.